Un'iniziativa di solidarietà a sostegno della scuola e delle famiglie in difficoltà. Ritorna anche quest'anno la raccolta di materiale scolastico targata COP. Attiva questo sabato in oltre 200 punti vendita in Toscana. Si può aderire in tutti i negozi Unicop. Qui siamo a Pistoia, sul Viale Adua, tutto il giorno, dalle 9 alle 19 ci sono dei volontari. Voi vi recateli qui vicino a noi, vi diamo una busta. All'interno del supermercato c'è uno spazio apposito dove trovate tutto il materiale che potete comprare e poi donarlo. Quindi ai supermercati COP avviene la raccolta del materiale scolastico. Dopodiché questo passa di mano alle associazioni del territorio che saranno incaricate di destinare tutto questo materiale alle famiglie più in difficoltà, le famiglie che ne hanno necessità. Si parla e abbiamo parlato tra l'altro l'anno scorso in modo anche molto più forte contro l'abbandono e la dispersione scolastica. Era l'anniversario tra l'altro di Don Milani. Questa è la parte pratica appunto di quello che poi facciamo nei confronti di alcune associazioni che si occupano proprio di dopo scuola. Loro poi una volta raccolti attraverso appunto stamattina e oggi pomeriggio i volontari, poi un giorno si mettono e si dividono e andranno a aiutare quelle famiglie che loro direttamente assistono tutto l'anno.